Indicazioni precise su tempi e modalità di risoluzione del problema. È la richiesta avanzata alla provincia di Salerno dal sindaco di Ponte Cagnano-Faiano Giuseppe Lanzara in merito ai lavori di abbattimento del ponte sul fiume Asa situato sulla SP 175. Al momento infatti non è stata fornita una tempistica certa per l'inizio dei lavori di demolizione del corpo centrale del viadotto, ritenuto a rischio crollo dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno. Di qui la necessità di dare risposte a residenti ed imprenditori, prime vittime dei disagi causati dalla chiusura dell'arteria nel tratto in prossimità del ponte. L'ipotesi sul tavolo, che non lascia ben sperare circa la celerità nella predisposizione dei lavori, è quella di istituire il senso unico alternato per il solo traffico leggero. Per dare l'ok a tale proposta però si dovranno attendere i risultati delle prove di carico.